Esordio non troppo felice per l'Olimpia agnonese che per la prima di campionato ospita il Giulianova. La partita finisce 1-0 per gli abruzzesi che sfruttano l'unico episodio di tutto il match per incassare i primi tre punti. Ma andiamo alla cronaca che per Mr. Mecomonaco comincia con due tegole. La prima con l'infortunio di Falco che si stira in fase di riscaldamento pre-partita. La seconda con Cassese che è costretto ad abbandonare il campo ad appena 7 minuti di gioco, sempre per infortunio. Due episodi incresciosi ma non saranno quelli a determinare l'andamento della partita. Un primo tempo piuttosto soporifero in cui si fa fatica a costruire gioco e in cui manca totalmente lo spettacolo calcistico. Tanto è che registriamo solo un paio di azioni un po' più interessanti. La prima al sedicesimo con Di Paolo e il suo insidioso cross che Kuzmanovic blocca prontamente. Al ventesimo la buona occasione per assaporare qualche brivido la regala alla Min che sul calcio di punizione battuto da Carnevale di testa va un filo alto sulla traversa. Poi più nulla fino al momento degli spogliatoi che i giocatori guadagnano a reti inviolate. Con le immagini di Antonio Masi eccoci nella ripresa. L'agnone sembra scendere in campo con un altro piglio e in effetti gioca la prima mezz'ora mettendo in difficoltà gli avversari. Al settimo minuto l'occasione di marca Granata arriva su un calcio di punizione battuto da Carnevale ma Salifu manca l'impatto con il pallone per un soffio. All'undicesimo è sempre Carnevale protagonista con un tiro che costringe Shiba a tuffarsi. Al sedicesimo è brivido vero c'è la Mini in area di testa per la forgia che illude con una bella rovesciata che però va fuori di pochissimo. Al trentatresimo succede ciò che non ci si aspetta sugli sviluppi di un calcio di punizione. Arriva un pallone che vaga in area Granata così Di Paolo è pronto a infilare la rete praticamente a porta vuota ed è 1-0 per il Giulianova. Al trentottesimo Pagano chiede un rigore per un intervento scomposto da parte di Foschi ma per il direttore di gara Cardellas della sezione di Torre del Greco è tutto regolare. La partita si chiude con un tiro insidioso di Tozzi Borsoi che sfiora la traversa. Si conclude così un match in cui il Giulianova ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e con l'Olimpia agnonese che deve fare conti con qualche tassello ancora mancante negli ultimi metri offensivi.